Stiamo andando a fare una commissione speciale a prendere la borsa di Antonio De Patrizzi, e poi ti faccio fare un gioco per il laboratorio. Mi sono venuta a prendere la borsa direttamente in fabbrica. Mi tocca dentro proprio, mi tocca personalmente. Per questo faccio sempre il video, mostro le fasi di lavorazione. A volte sai perché li faccio, ma li fate voi, non ci credo. Ti piace? Molto, però il colore è strano. Guardi, ce la vedo già pronta nera, pur la settimana scorsa, però ho preferito fartela in colore. Faccio tutto io, infatti per questo ti dico il mio laboratorio, perché siamo un piccolo gruppo. Faccio tutto, guardati pure le attrezzature e ti conto poi come ti abilità a far riuscire. per l'inizio del tutto, è per il livello del lavoro. Anche il maio potete vedere fatto a mano, a pulito. Per il ritrancio, lo so, uno. Sì, sì, assolutamente. Da autodidatta. Da autodidatta. Allora, questo è uno dei miei posti. Uno dei miei posti. C'è una mariana. Cioè, passare le partenope. Questa è antica, ha un'origine greco-lomani. Sai cosa vedi? Una volta è il complesso sbirare alle persone perché è un innamorato di questo territorio. Un ruolo per questo è che tu percepisci una magia quando sei in certi posti, che tu non riesci a staccare. Poi c'è un chiostro qui dietro. Grazie mille. Assolutamente. Mi ha fatto veramente piacere. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.